benvenuti gentili spettatori per questa partita di serie di il girone è quello b le squadre che si affrontano sono la roma women calcio al 5 e l'atletico torcervara qui direttamente dal hotel petra fischia il direttore di gara inizia quindi roma woman calcio al 5 contro l'atletico torcervara in maglia gialla c'è la roma woman che difende dalla nostra parte e attacca in avanti invece il contrario è per l'atletico torcervara in maglia rossa e pantaloncini blu seppure molto qui all'hotel petra in zona romanina marota in avanti per billon il tentativo di girare ancora bellona e le galla del 1 a 0 lo segna il capitano in maglia gialla che ti billon quindi una zero per la roma poi quando ci sarà modo non ci avremo anche un po di curiosità statistiche e anche i prossimi impegni delle due squadre intanto cerca di andare via proprio la numero 10 buono il tiro di croella adesso siamo al 17esimo minuto di questo primo tempo prova a gestire la roma che in vantaggio per 1 a 0 il gol di che ti bellon capitana poi buonissimo il passaggio per il tiro di croella palla che va sul palo occhi a esempio quella dei punti la roma si ne ha fatti 22 ma ne ha portati a casa dagli scontri in trasferta di più portati 12 invece in casa ha totalizzato 10 punti fina d'ora sicuramente un buon bottino intanto c'è il gol di croella gol di 2 a 0 si sta divertendo con noi il tempo perché ha iniziato a piovere forte intanto oltre a piovere forte qui si continua a segnare il gol di bischi e leonora bischi mette il 3 a 0 di questo primo tempo la stoppa un'altra volta sanguigni contro di lei face marota che la mette fuori controlla il direttore di gara l'orologio vediamo quanto ci sarà ancora dato che siamo al 31esimo e 10 secondi per risi poi non riesce a tenere il possesso c'è il duplice fischio finisce qui il primo tempo woman roma 3 lo dico torce il vara 0 fischia il direttore di gara adesso ha battuto la roma che attaccherà verso i nostri dispositivi invece farà il contrario l'atletico torce il vara a primo tempo che ci ha detto che per ora la roma vuole portarsi a casa i tre punti ed è in vantaggio 3 a 0 adesso invece la roma che adesso sta tentando di tornare in difesa dato che musica approvato ci trova anche sanguigni ma chi è parata di fabrizi fantasma sulla destra ancora la numero 11 e il gol quindi del 3 a 1 accorcia le distanze la capitana in maglia 11 la vigna sanguigni batte lei palla per bellona dura pochissimo dura pochissimo la distanza di due gol gol del 4 a 1 e doppietta per katy bellon da sanguigni non riesce poi a stoppare l'altro passaggio della numero 4 zofranieri primi dieci minuti che stanno per andarsene di questo secondo tempo piergentilina avanti per bellona pallone per vischi il tiro palla che entra dentro l'autogol del capitano sanguigni tornato in campo girardi tanto stop per trotto se la lunga troppo bellon per girardi che può provarci il gol gol della 6 a 1 segna la nuova entrata girardi roma che allunga per la numero 5 messi in avanti però non riuscire ad andare al meglio passaggio di musio poi il tiro di croella e finisce qui l'incontro vince la women roma calcio a 5 per 6 a 1 contro l'atletico torcervara questo momento di applausi e saluti